A me piace andarmene in giro. Ci vieni con me? Simona? Nasconditi. Simona! Vieni qui, ti devo parlare! È importante! Simona! Ah, da dove sbuchi? Sì, scommetto che stavi giocando nella casa caccia. Ma lo sai che è pericoloso, è piena di bottiglie rotte, di chiodi. Ah, credo che siano arrivati gli uccelli per la tua voliera. Sì, ho visto Giuseppe che veniva dal paese con il furgoncino. Beh, non sei contenta? Facevi tante storie per quella gabbia vuota. Sì, andiamo? No, va tu, io vorrei dare un'occhiata in giro. Ho visto delle trappole e non vorrei che magari qualcuno venisse a tirar colpi vicino a casa nostra. Vai, vai, ti raggiungo più tardi.